Nelle nuove avvincenti puntate di Endless Love, il destino di Kemal si tinge di oscuro pericolo, catapultandolo in una spirale di eventi che rischiano di costargli la vita. Al centro della bufera, la sua irriducibile battaglia contro l'astuto Emir. Secondo le ultime notizie direttamente dalla Turchia, il coraggio di Kemal verrà messo a dura prova quando subirà un'aggressione brutale. Alcuni sicari, mandati da Emir, lo colpiranno all'addome con una coltellata. In un momento di disperazione e amore, sarà Nian a ritrovarlo in fin di vita, e si adopererà con ogni mezzo per salvarlo. Ma cosa spinge Kemal in questa pericolosa indagine? Il cuore della questione risiede nel mistero che avvolge la decisione di Nihan di lasciarlo. Kemal è tormentato da domande senza risposta riguardo la notte precedente alla sua proposta di matrimonio, un momento che avrebbe dovuto segnare l'inizio della loro felicità condivisa. Dopo incessanti richieste di spiegazioni, Nihan rivela che la sua scelta è stata dettata dalla disperazione di salvare suo fratello. Determinato a scoprire la verità, Kemal si lancia in un'indagine solitaria che lo porterà a scoprire delle chiavette USB nascoste nello studio di Galip. Questi dispositivi contengono prove video di un crimine orribile, l'omicidio di Ozan. Galip, attraverso corruzione e inganni, era riuscito ad appropriarsi di queste chiavette dalla cassetta di sicurezza di Emir. Il piano di Kemal prende una svolta drammatica quando, con l'aiuto di alcuni criminali, riesce a rubare le chiavette durante un ricevimento a casa di Galip. Nihan, presente all'evento, intuisce le mosse dell'ex amato e lo supplica di consegnarle le chiavette in un luogo che ha un significato speciale per loro, la loro solita collina. La tensione sale quando Kemal, deciso a seguire il cuore, viene aggredito dagli uomini di Emir prima di poter incontrare Nihan. Ferito gravemente, riesce comunque a consegnare le chiavette a Nihan, nascondendole la gravità della sua condizione. Quando Nihan se ne va, Kemal, vinto dal dolore, perde i sensi. Nihan si trovava in un vortice di emozioni contrastanti, con il cuore pesante per le decisioni prese e un senso di colpa che le attanagliava l'anima. Aveva cercato di allontanarsi, di mettere una distanza tra lei e Kemal, ma dentro di sé sapeva che l'amore che provava per lui era troppo forte, impossibile da ignorare. Era stata una giornata carica di tensione, con la pioggia che batteva incessante contro i vetri, come se preannunciasse la tempesta emotiva che stava per abbattersi su di lei. Dopo ore di lotta interiore, qualcosa dentro di lei si spezzò. Nihan capì che non poteva semplicemente voltare le spalle a Kemal, non dopo tutto ciò che avevano condiviso, non con tutti i sentimenti che ancora li legavano. Così, con il cuore gonfio di speranza e di paura, decise di tornare indietro, di correre verso lui, verso l'uomo che aveva lasciato ferito, non solo fisicamente, ma anche nell'anima. Il suo ritorno non fu semplice. Il paesaggio sfuggiva veloce mentre Nihan guidava sotto la pioggia battente, i pensieri correvano ancora più veloci nella sua mente, tormentata dall'incertezza su quello che avrebbe trovato. E poi, finalmente lo vide. Kemal, a terra, immobile, con una ferita che macchiava di rosso il suolo bagnato. Il cuore di Nihan si fermò per un istante, preso dal panico e dalla disperazione. L'amore di una vita, lì, davanti ai suoi occhi, ferito, forse in punto di morte. Senza esitare, si precipitò da lui, il suo grido, ti prego, non lasciarmi. Squarciò il silenzio della notte, un appello disperato, un desiderio ardente che lui potesse sentirla, che potesse lottare per restare con lei. Le sue mani tremavano mentre cercava di valutare l'entità della ferita. Il cuore batteva all'impazzata. La paura di perderlo era un macigno sul petto. Per un tempo che sembrò infinito, non ci fu alcun segno di vita da parte di Kemal, solo il suono della pioggia e il respiro affannoso di Nihan. Poi, contro ogni speranza, un lieve movimento, un sussurro di coscienza che lentamente tornava. Kemal aprì gli occhi e in quel momento, per Nihan, il mondo si fermò. La gratitudine e l'amore che provava in quell'istante erano indescrivibili, mentre le lacrime di sollievo le rigavano il viso. Non c'era tempo da perdere. Con un'energia che non sapeva di avere, Nihan aiutò Kemal a rialzarsi, sostenendolo con tutta la forza e la determinazione che poteva raccogliere. Ogni passo verso l'auto era un passo verso la speranza, verso la possibilità di un futuro insieme. La corsa verso l'ospedale fu frenetica, una corsa contro il tempo, con Nihan che guidava il più velocemente possibile, pregando affinché Kemal potesse resistere. In quei momenti, con il timore di perdere Kemal, che le stringeva il cuore, Nihan si rese conto di quanto fosse profondo il suo amore per lui. Era più che una semplice attrazione o affetto. Era un legame che andava oltre la logica, che sfidava ogni difficoltà. E mentre sperava, con ogni fibra del suo essere, che Kemal si riprendesse, sapeva che qualsiasi ostacolo avrebbero dovuto affrontare in futuro, lo avrebbero fatto insieme. La loro era una storia d'amore che non poteva finire così, non in quella fredda notte di pioggia. Era solo l'inizio di una nuova lotta, una lotta per la vita, per l'amore, per il futuro che insieme avevano sempre sognato. Endless Love, con la sua trama intricata e ricca di colpi di scena, si è rapidamente affermata come una delle serie televisive più amate e seguite del momento. Ogni episodio è un viaggio emozionante attraverso le vite dei personaggi, ognuno con la propria storia, i propri segreti, le proprie battaglie. Questo show ha il dono di trascinare i telespettatori in un mondo dove l'amore, il sacrificio e il coraggio si intrecciano in maniera così intima da diventare quasi palpabili, creando un legame indissolubile con chi guarda. Fin dal primo episodio, Endless Love riesce a catturare l'attenzione grazie alla sua capacità di esplorare le profondità dell'animo umano, mostrando quanto sia complesso e affascinante il cuore delle persone. Gli spettatori si trovano immersi in storie che parlano di amore in tutte le sue forme, quello passionale che sfida ogni ostacolo, l'amore fraterno che offre conforto nei momenti di difficoltà e quell'amore altruista che spinge i personaggi a sacrificarsi per il bene degli altri. Le vicende dei protagonisti sono un continuo alternarsi di momenti di pura felicità e profonda disperazione, situazioni che mettono alla prova il loro coraggio e la loro volontà di andare avanti. Ciò che rende Endless Love così speciale e vicino al cuore di molti è la sua capacità di rappresentare la vita reale, con tutti i suoi alti e bassi, le sue gioie e i suoi dolori. Gli spettatori si ritrovano a ridere, piangere, arrabbiarsi e sperare insieme ai personaggi, vivendo con loro ogni emozione in maniera intensa e genuina. Ogni episodio aggiunge un nuovo pezzo al puzzle complesso delle vite dei personaggi, rivelando segreti sorprendenti e verità nascoste che spesso cambiano il corso degli eventi in maniera inaspettata. Questi colpi di scena tengono gli spettatori con il fiato sospeso, ansiosi di scoprire come si evolveranno le situazioni e quali sfide dovranno affrontare i loro beniamini nel prossimo episodio. La forza di Endless Love risiede anche nella sua capacità di affrontare tematiche profonde e attuali con sensibilità e rispetto, spingendo gli spettatori a riflettere su questioni importanti e, a volte, a mettere in discussione le proprie convinzioni. La serie dimostra che, nonostante le difficoltà e gli ostacoli, l'amore e il coraggio possono fare la differenza, portando luce anche nei momenti più bui. In conclusione, Endless Love non è semplicemente una serie televisiva, ma un'esperienza emotiva che arricchisce, che invita alla riflessione e che, episodio dopo episodio, continua a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Con le sue storie avvincenti di amore, sacrificio e coraggio, questo show ha conquistato il cuore di milioni di persone, dimostrando che, nonostante tutto, l'amore è una forza senza fine, capace di superare ogni barriera. Cosa pensi di questa soap opera? Ti sta piacendo? È interessante secondo te? Ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un like al video per non perdere le prossime anticipazioni.